Sei pronto Geranio? Faccio un giro per entrare in connessione col Geranio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I suoni che sono il collegamento con la bellezza del verde intorno a me. Tutto sembra immobile ma c'è vita che si muove in mille forme infinite manifestazioni. E' l'abbraccio della madre terra che ora canta, che ora canta. Come puoi sentirti solo se la natura vive con te, in te. Senti questa connessione, un'intelligenza immensa, che ci può insegnare tanto, riportarci verso il centro, la mogia che abbiamo dentro. E' l'abbraccio della madre terra che ora canta. Proviamo a chiudere gli occhi adesso e facciamo tre respiri Insieme a me. L'ultimo. Come puoi sentirti solo se la natura vive con te, in te. Senti questa connessione, senti questa connessione, un'intelligenza immensa, che ci può insegnare tanto, riportarci verso il centro, l'armonia che abbiamo dentro. E' l'abbiamo un'intelligenza immensa, che ci può insegnare tanto, riportarci verso il centro, l'ambino che abbiamo dentro. Grazie a tutti